idea. Renzi in un libro che ho collaborato a scrivere quando ero renziano ha detto no alla TAV, punto, credo che basti così. Scusi Ponti, ma lei è stato anche renziano nella vita? Certo, ma come no? Ho collaborato al primo programma di Renzi, ho collaborato con Goodkill, c'è un libro su questo, poi Renzi ha cambiato molto radicalmente. E cosa ha scritto? Soltanto di TAV o anche di altri temi? No, perché le idee complessive sul settore dei trasporti, insieme a Goodkill. Ah, bene, molto interessante. Allora, scusatemi invece... Però a cambiare idea, insomma, parliamo... Non è solo Salvini, dice lei? Eh, forse no. Però scusami, Nardella, le faccio una domanda, perché questa è una cosa ciclica. Nardella non se lo ricordo il libro. È ciclica questa cosa, ogni tanto entra qualcuno in questo studio, spesso addirittura con il libro di Renzi in mano, mi fa vedere questa roba della TAV che il professor Ponti addirittura ha contribuito a scrivere.